L'offerta NavLab è centrata sul segmento ERP, quindi soluzioni customizzabili, personalizzabili per le aziende. Questo perché nel mercato italiano anche aziende di dimensioni non grandissime, anche medie e piccole, in realtà hanno forti esigenze di personalizzazione. Sono aziende che stanno sul mercato perché hanno dei processi ottimizzati, non possono stravolgere i loro processi, non possono cambiare il modo di lavorare per adeguarsi al software. Deve essere il software che si adegua al loro modo di lavorare per permettergli di mantenere quelle caratteristiche che sono alla base della loro competitività. In base alla nostra esperienza il livello di uso delle nuove tecnologie nelle aziende edili è relativamente basso. Crediamo che ci siano ampi spazi di crescita perché le esigenze di tecnologia queste aziende ce l'hanno. Sono aziende che movimentano un numero estremamente ampio di prodotti diversi, interagiscono con una clientela diversificata, sia privata che professionale, quindi scenari che cambiano molto nel tempo. La tecnologia potrebbe aiutarle molto ad aumentare il livello di servizio, di efficienza e di marginalità. I vantaggi per le imprese del settore distribuzione sono molteplici. Innanzitutto partiamo da quelli elementari, l'ottimizzazione dei processi, intendo naturalmente magazzino, ordini, inventario. Questo però è proprio il punto di partenza. Il secondo step già più interessante è il miglioramento del rapporto con il cliente. L'adozione di sistemi evoluti mi permette di gestire meglio quelle eccezioni che oggi sono la regola, campagne, promozioni e anche di conoscere meglio, di segmentare meglio i miei clienti, quindi conoscerli meglio, individuarli, categorizzarli. Un passo ulteriore è quello che ottengo dalla grande quantità di informazioni strutturate che gestisco con il sistema IRP. Con questo sono in grado di migliorare i miei processi decisionali e previsionali. Per esempio anche una valutazione più precisa della marginalità e delle conseguenti scelte strategiche che faccio. Più a un livello strategico ancora, direi che l'adozione di un sistema IRP costituisce un vantaggio competitivo in quanto è un sistema che mi può seguire nel tempo, può seguire la mia evoluzione nel tempo. È un sistema adeguato non solo a coprire i bisogni di oggi, ma che mi può seguire anche nei bisogni di domani e di dopodomani.